Allora Ciro, buonasera, grazie per essere qui con noi stasera. Allora Ciro è un software engineer trapiantato qui a New York, quando? A gennaio, mi sono trasferito a gennaio, fino a prima ero di Firenze si sente per esumo. Sì, credo proprio di sì, originario originario di Firenze? No, sono nato vicino a Roma però sono cresciuto a Firenze tutta la vita, avevo tre anni quando sono andata a Firenze. Ok, benvenuto di nuovo. Allora, come mai la scelta dell'America e specialmente New York? La scelta dell'America era quasi obbligata in quanto io sono fortunato, la mamma americana, quindi la doppia cittadinanza. New York perché per quanto riguarda il mio lavoro è la capitale mondiale per tecnologia, ricerca, tutto ciò che è campo scientifico, tecnologico, New York è il top. Ma quindi mamma americana o americana? Mamma americana, va bene. Mamma americana. Ok, e quindi dici, il tuo business va molto bene qui nella City? Forse insieme a tutto ciò che è economia, quindi borsa e lavori che comunque sono sempre molto pagati come avvocati, medici, la tecnologia, ricerca qua a New York è uno dei top, lavori considerati top nella City. Quindi non hai avuto problemi a trovare lavoro qui? È incredibile, anche se lo dico non mi crede nessuno, dieci giorni, sono venuto in vacanza, dopo dieci giorni ho firmato il contratto. In effetti non gli crederebbe nessuno. Invece è vero, è vero, dieci giorni sono venuto in vacanza, eravamo un mese in vacanza, mi ero licenziato dal lavoro vecchio perché la situazione in Italia per chi è italiano lo sa è assurda. Però il coraggio di licenziarsi, voglio dire, sembra un po' un folle. Eh sì, ero uno dei poi fortunati, ho un lavoro stabile, fisso, a tempo indeterminato, però... Doppiamente folle? Doppiamente folle, anche il triplo, però il problema è che in Italia comunque non ti viene mai valorizzato, non ti viene mai reso quello che vale il tuo lavoro. Ti sentivi sfruttato? Parecchio, stressato tanto e quindi poi alla fine lo stress e le incavolature non valevano la candela e ho deciso, va bene, vado in vacanza un mese e poi vediamo un po' come va. E invece sono venuto in vacanza un mese e dopo dieci giorni ho firmato un contratto, diciamo, molto buono, favorevole, diciamo che mi permette di fare una bella vita. Hai trovato l'America? È il caso di dirlo, non solo io, fortunatamente anche la fidanzata, sono fidanzato, quasi sposato l'anno prossimo, ciao Elena. Facciamo le congratulazioni in anticipo perché è una bella cosa. E anche lei, lei è una biologa molecolare cellulare, laureata... Lei era laureata con il massimo dei voti alla magistrale in biologia molecolare cellulare con una pubblicazione su una malattia genetica, ha fatto l'internato alla Novartis a Siena, eppure era da due anni ferma a casa, non lavorava perché in Italia se lavoravi, lavoravi a... Gratis? Nella ricerca rimborso spese, sono 300 euro al mese o gratis. Lei gratis giustamente non voleva lavorare, è stata due anni a casa, siamo venuti qua, anche lei prima di un mese, trovato lavoro, firmato il contratto, lavora a uno dei più grossi ospedali di New York, il Mount Sinai, fa ricerca sul cancro del sangue, nel suo ramo. Ok, allora per ricapitolare, perché magari chi ci sente, soprattutto gli italiani all'estero, possono pensare che davvero l'America sia la terra delle opportunità così per tutti. Allora, ribadiamo che innanzitutto tu hai documenti. Io sono cittadino. Lui è cittadino, ok. Poi, in generale, c'è la possibilità di avere lo sponsor, lavorare qua, ma bisogna fare un lavoro comunque che è in high demand, quindi alta richiesta. Ricerca, nel campo scientifico fanno i permessi lavorativi, sponsor tranquillamente. Ambito tecnologico, quindi software ingegnere, ingegneri elettronici, roba del genere, si trovano sponsor, si trova lavoro. Però, si lavora, si lavora tanto, si lavora… qua c'è un detto che ho imparato qua a New York che secondo me è il mantra per eccellenza, è work hard, play hard. Qua a New York si lavora tantissimo, non si smette mai… Si lavora troppo? No, non ci sono orari però, cioè nel senso è facile magari un giorno puoi uscire prima perché c'è da fare le tue cose, però il fine settimana magari c'è da fare una consegna, devi lavorare. Non c'è limite, quindi si lavora tanto però ci si diverte anche tanto, work hard, play hard. Si vive bene se si ha voglia di fare. La cosa importante per essere qui secondo me, quella fondamentale, è avere voglia di fare, partire non con masse, forze. Bisogna venire qua con l'idea di sfondare, se arrivi qua con l'idea di spaccare ce la fai. Va bene, sì. È un ultimo consiglio che vuoi dare agli italiani che invece non hanno i documenti ma hanno voglia di sfondare, spaccare e non sono nel settore né della tecnologia né della ricerca. Cosa senti di dire loro? Allora, sicuramente fare… la lingua è importantissima perché qua l'inglese è fondamentale. Non saperlo significa non trovare lavoro o comunque trovare un lavoro di ripiego e comunque è difficile. Concordo. Quindi l'inglese è importantissimo. E poi preparare un buon resume, un curriculum fatto bene come si deve e poi dimostrare che si ha voglia di fare. Qua l'esperienza conta molto e conta molto dimostrare quello che si sa fare, quindi non aver paura di tirare fuori tutto quello che si ha al massimo, imparare l'inglese… Ti prendrebbero senza esperienza? Eh, senza esperienza è difficile. Senza esperienza è difficile a meno di non essere laureati negli States, allora è un altro conto. Senza esperienza e senza titoli è molto difficile. Ci si può fare ma diciamo che le chance sono molto basse. Con un'ottima preparazione, come dicevo, soprattutto in campo scientifico o con comunque tanti anni di esperienza, allora è molto più semplice. Però comunque sia bisogna dimostrare di valerli, se no… Qua, non essendoci la mentalità italiana del trovato un lavoro, sei a posto tutta la vita, qua quando non vai più bene ti possono mandare a casa da un giorno all'altro. Non c'è… Non c'è contratto. Non c'è contratto. Sei a tempo indeterminato o comunque finché vai bene, il giorno che non vai più bene ti possono mandare a casa. Quindi bisogna continuamente dimostrare di essere in grado e di più anche. Chi è in grado di dimostrare di saper fare, saper fare anche meglio, però in compenso viene ricompensato. Cioè promozioni, lavoro, soldi. Se sei uno che sa fare, ha voglia di fare, negli ambiti giusti ti viene dato quello… Io sono stato molto fortunato sotto questo punto di vista… Ce ne siamo accorti, scusa. Dieci anni di esperienza comunque nel settore hanno giocato la sua parte. E niente, c'è stata la sua parte di fortuna, varie cose, però… Se c'è voglia di dimostrare qualcosa, ce la fai, ce la fai. Un'ultima domanda, scusate, che mi trattengo. Sono curiosissima di sapere come va la salsa. Perché oltre ad essere un informatico eccellente, è un appassionato di salsa, ok? Sei entrato nel giro qui del ballo in America? Fai qualche spettacolo? Allora, in Italia ballavo da 13 anni, 14 anni, tipo. Insegnavo da 4, saluto gli allievi se mi vedono. Ciao ragazzi. Ma da solo puoi fare qualcosa, ci puoi far vedere qualcosa, da solo non vale, vero? Ci vuole la ballerina, è un ballo di coppia e comunque… No, prima insegnavo in Italia tutto quanto, quando mi sono trasferito, per fortuna il lavoro principale mi dà abbastanza da stare bene. quindi ballo per divertimento. Sì, ho trovato una comunità, la comunità cubana a New York è piccola perché va molto il portoricano, il New York style, quindi molto show. Però il… Salutiamo i cubani, i portoricani. Tutta la comunità salsera italiana, ciao a tutti, ciao al Woodstock. Ciao a tutti i ragazzi, al Woodstock, a tutti quanti. E niente, alla scuola, alle scuole Formula Latina è 51% danza che mi avevano adottato in Italia. E niente, qua ho continuato a ballare, la comunità cubana è piccola, a New York purtroppo, però ci sono due o tre localini molto validi per ballare a salsa, in cui vado tutte le settimane a divertirmi e mi diverto. Guarda, io sto morendo di curiosità, allora adesso facciamo così, una promessa. La prossima volta vieni con la tua partner, ci fai un passetto, ok? Ci stai? Dio, ce lo fai vedere in diretta? La prossima volta si balla un po'. Ok, si balla un po', eh? Salsa, olè. Va bene, grazie amici di Italiane all'estero TV, buona serata a tutti, ovunque voi siate, con noi Ciro Castellano, grazie. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie a te. 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 Grazie a te.